Al negozio, primo epizodio. Parking e furoshka. Parkeggio. Parking e furoshka. Machin'ha dar parking par chodend. Le auto sono parcheggiate nel parcheggio. Machin'ha dar parking par chodend. Iskahe taxi. Stazione dei taxi. Iskahe taxi. Taxi'ha montazere mosafran hastend. I taxi stanno aspettando i passeggeri. Taxi'ha montazere mosafran hastend. Giai parque ma'loulin. Spazio parkeggio disabili. Giai parque ma'loulin. PORTA D'USCITA DEL NEGOZIO. I CLIENTI ESCONO DA QUESTA PORTA. Giai parque ma'louin. Giai parque ma'l'oulin. La porta automatica del negozio si apre. Siamo ora nel negozio. La porta automatica del negozio si apre il negozio. La porta automatica del negozio.